ameria radio presenta la musica di ameria radio a cura di maria teresa ferrante buonasera e benvenuti alla musica di ameria radio questa sera ascolteremo composizioni di joan joachim quanz sappiamo che è nato a obersaden presso annover il 30 gennaio del 1697 lo ricordiamo come compositore e virtuoso del flauto traverso che costruiva egli stesso oltre ad essere anche un grande teorico cosa ascolteremo questa sera di joan joachim quanz noi sappiamo che oltre a delle suonate in trio e della musica vocale da camera quanz compose ben 200 suonate e 300 concerti per flauto fra i quali ricordo spiccano quelli per federico il grande noi questa sera ne ascolteremo quattro di questi concerti esattamente il concerto per flauto e orchestra in la minore il concerto per flauto e orchestra in sol maggiore il concerto per flauto orchestra in do minore e per concludere il concerto per flauto orchestra in re minore tutti i concerti sono suddivisi in tre movimenti a farceli ascoltare sono al traversiere mary o leschievice accompagnata dall'ensemble concerto armonico diretti da miklos spani grazie a tutti e Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.